18 luglio 2022 una giornata che rischia di passare alla storia come diciamo negativa per il mercato dell'inter l'inter che potrebbe perdere non uno ma due obiettivi di mercato anche se ci sono delle distinzioni da fare chiaramente ci riferiamo a Dybala e a Gleison Bremer per quanto riguarda Dybala ormai è fatto ma in caso davvero stavolta solo l'ufficialità per il suo trasferimento alla Roma già parlato da giocatore giallorosso siamo nelle ore delle visite mediche poi subito paulino si metterà a disposizione di jose murigno un ottimo acquisto per la roma acquisto in realtà parametro zero le solite commissioni da da sbrigare ma non possiamo parlare di inter beffata come tanto piace ai ai detrattori della bene amata perché perché in realtà è l'inter che passatemi il termine ha mollato ha mollato l'argentino lo ha mollato quando quando si è si è percepita la concreta possibilità di far tornare a casa Lukaku e quindi con Lukaku in inorganico al signor Dybala e ai suoi agenti si è fatto un discorso molto chiaro l'inter ha detto loro se riusciremo a cedere non solo Sanchez ma un altro attaccante della rosa quindi uno tra Correa e Dzeko verosimilmente l'indiziato era Dzeko allora va bene altrimenti ritendi libero di accettare qualsiasi altra destinazione Dybala d'altronde non ha mai non ha mai spinto così follemente per per altre per altre squadre l'accordo sostanzialmente con l'inter c'era anche il gradimento che se ne dica quindi Dybala non va all'inter perché non voleva andare all'inter Dybala non va all'inter perché l'inter ha dato priorità non solo finanziaria per i noti discorsi del decreto crescita quindi a livello cronologico a Lukaku ma anche a livello tecnico quindi Dybala messo in subordine e ha aspettato fino a fino a ieri di fatto proposte più allettanti della Roma non ce n'erano c'era stato un abboccamento del Siviglia ma niente di particolare sappiamo anche dei dei contratti che a Dybala a livello personale di sponsorizzazioni con club che legati alla Champions League Champions League che non andrà a fare quindi gioco forza qualcosa evidentemente l'argentino perderà ma forse ha prevalso la fretta tra virgolette fretta perché siamo a metà luglio oltre di metà luglio e anche la voglia magari di sentirsi al centro di un progetto come non lo era stato negli ultimi tempi alla Juventus mentre sarebbe grave molto grave la perdita secondo me di Bremer seguito per per mesi con una con un'assoluta con una totale totale ok da parte del giocatore per per la destinazione nera azzurra c'erano stati degli incontri anche privati con con lo stesso marotta ausilio ma anche in zaghi non parliamo di queste ultime settimane parliamo di di dicembre parliamo di gennaio l'accordo con tra l'inter e bremer era era veramente fatto qui possiamo veramente usare questa parola che va tanto di moda e che forse sarebbe il caso di utilizzare con maggior parsimonia era veramente fatto bremer era entusiasta di di poter vestire la maglia nera azzurra di venire di venire a milano c'era anche qui una condizione economica non tanto tecnica e questa è una cosa che che va sottolineato e e ho provato a sottolineare anche in queste settimane a livello tecnico bremer non era l'alternativa di screener anzi sarebbe potuto essere il completamento perfetto per la difesa per la difesa 3 con bastoni e appunto lo slovacco con bremer quindi perno centrale bremer che sa fare anche benissimo il braccetto di destra ma anche di sinistra a proposito giocando il braccetto di centro sinistra fece una doppietta al milano in coppa italia tanto per non andare lontano all'epoca di manzarri detto questo serviva però la cessione di schiena evidentemente a livello economico l'inter si era impegnata con il torino con una formula tra prestito e obbligo il prestito anche di casadei con obbligo e poi magari recompra da parte dell'inter per raggiungere i 25 30 milioni magari 35 totali ecco l'idea iniziale era 25 milioni poi siamo arrivati a 30 35 con casadei ma non più di quello la juventus si è fatta sotto con bremer due settimane fa fondamentalmente non tanto con lui quanto con gli intermediari anche lì bremer aveva dato priorità all'inter come era stato mesi fa con quando si era fatto tutto leonardo quando ancora era al pari san germain stessa identica storia con le incursioni del tottenham bremer ha sempre ha sempre mantenuto fede al patto con l'inter e ha sempre dato priorità all'inter evidentemente l'inter oggi non può affondare il colpo come pensava di poter fare perché evidentemente si valutava una cessione di schiena in tempi più rapidi e a questo punto bremer va più verso la juventus perché la juventus con l'incasso di delict da parte del baier monaco può accontentare cairo e può aumentare anche un po l'offerta allo stesso ragazzo a questo punto gli intervisti si augurano che l'inter dopo aver perso bremer non perda anche schiena perché lì sì e ci sarebbero dei grossi problemi va bene milenkovic però schiena insomma è un altro è un altro livello e non solo in campo è un altro livello proprio a livello di di leadership di forza caratteriale di peso dello spogliatoio quindi perdere bremer e schiena sarebbe un veramente una doppia mazzata pesante detto che a oggi alle 16 e 25 bremer è ancora in ballo tra inter e juventus a naso come dicevo anche in altri in altri live sono me perisic non rinnovava secondo me di bala non sarebbe poi arrivato dopo un iniziale grande ottimismo subodorava anche la permanenza di schiena in qualche modo adesso vediamo se si sfinisce questo mosaico e come soprattutto ripeto un conto è perdere schiena rimpiazzandolo con bremer un conto è perdere schiena rimpiazzandolo con milenkovic un saluto